Le case in Pluvion della Casa Mans in Senegal risalgono al periodo del Regno Bandial, chiamato Mosse e Ville, circa sette secoli fa, e appartengono alla cultura di Olat. Sono abitazioni di una forma architettonica unica. Si tratta di case in fango, banco, fango e paglia, composte da stanze unifamiliari, disposte attorno a un cortile centrale, e formano un edificio unico, e nel centro si raccolgono le acque piovane, che confluiscono dal tetto, che spesso è a un doppio spiovente in paglia. La dimensione cambia, ci sono grandi case che possono contenere fino a 50 persone. Queste case consentono di recuperare l'acqua piovana, che poi, una volta accumulata al centro, viene portata all'esterno attraverso un canaletto e stoccata in bacini di raccolta. Sono state costruite anche a scopo difensivo, in un periodo di conflitti con le altre etnie, bainunque e maniac. Case riprese in questo breve video sono il territorio di Seletì. La dimensione è una relazione anticipa, non è un periodo di fisico, ma che non vorrei spettare una moda, allora è un periodo di campione e guardare사 un paese forti copia dell'acqua pio in Italia. Lasti hurtsili ci sono paese peroulderezza e geen soli diperiezza, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.